Buonasera e benvenuti al 7 e mezzo, stasera torniamo a parlare del presidio 9 agosto, ieri abbiamo seguito la vicenda, c'è stato un tavolo tecnico per capire come procedere e gli attivisti ci hanno raccontato che possono continuare a quanto pare l'importante che ci sia un po' più di decoro. Io con in studio stasera Sergio Aurora, buonasera, benvenuto. Buonasera. A tutto grazie, è vero, è corretto, ho detto bene, vi ho detto sì potete rimanere forse, la risposta manca ancora, però potete rimanere a patto che mettiate un po' in ordine il presidio, insomma è un po' troppo brutto da vedere? Ma diciamo che abbiamo avuto una interlocuzione che alla fine dell'incontro, insomma è durato un paio d'ore, ci ha anche abbastanza soddisfatta, adesso stiamo ancora attendendo una risposta definitiva da parte sostanzialmente del Comune di Brescia, perché noi abbiamo chiesto un riparo, un gazebo o altra cosa per la sera, per la notte, perché i presidianti, i nostri volontari, come sapete, sono H24 al presidio e insomma la stagione non è delle migliori. Sì, infatti adesso si pone un po' il problema di cercare di affrontare la stagione, perché se volete continuare a rimanere lì, adesso c'è un po' di pioggia, ma con una temperatura accettabile, stiamo andando verso una temperatura ben più rigida, insomma. Sì, noi abbiamo deciso di proseguire fino a che si ridica un atto concreto, insomma, di un'iversione di tendenza. Cioè voi volete rimanere lì fin quando sostanzialmente non verrà ripensata l'ubicazione del depuratore? Sì, non verrà ridiscusso tutto quanto il progetto di depurazione del lago di Garda e fino a quando non verranno restituite ai territori le prerogative, cioè tutta l'attività che i territori, le istituzioni comuni, la provincia avevano iniziato, che è stata poi bruscamente interrotta dal commissariamento, dal nomi del commissario nella persona del perfetto di Brescia. Ecco, ricordiamo un po' in breve, adesso io la farò molto breve, lei sarà molto più tecnico di me, ma per chi ci sta seguendo, che non ha seguito, o meglio, in questi casi succede sempre che si seguono le evoluzioni, ma molti magari non conoscono quello che ci sta a monte di tutto, quindi da tanti anni si discute del fatto che il Garda debba avere un depuratore, un nuovo depuratore, quello attuale a causa tubature che si stanno in ogni caso rovinando e quindi rischiano di rompersi con tutto quello che potrebbe causare, in ogni caso serve un nuovo impianto, era stato alla fine di tutta una serie di interlocuzioni, ho trovato un'ubicazione che però stava sul Garda, è arrivato il commissariamento. Adesso, lei vada più, nello specifico sia più tecnico, ma per dare una sorta di quadro complessivo e molto veloce a chi ci sta seguendo, diciamo che ci muoviamo in questa situazione. Ma allora diciamo che, come lei diceva ora, la questione viene molto lontana, sono parecchi anni che si pone la questione del collettamento e della depurazione del lago di Garda, di una revisione. La questione a monte è che, come tutti sanno, nel bacino del lago di Garda, nei comuni che sono sul lago di Garda, negli ultimi anni, ma ormai tanti anni, c'è stata un'attività di cementificazione, di costruzione, per sviluppare il turismo e tutti i comuni hanno dato vita a questa attività senza pensare, diciamo, a quello che c'era sotto, cioè al problema delle fognature, del collettamento, della separazione dell'acqua bianca e acqua nera che ha appunto oggi. Diciamo che proprio non è una di quelle situazioni che tutti i comuni dicono, non voglio io. No, diciamo che, come sappiamo, il turismo di massa è cresciuto tantissimo e quindi tutte le infrastrutture, per cui i comuni hanno costruito, costruito e poi si sono resi conto che il depuratore attuale, quello di Peschiera, secondo, diciamo così, secondo loro era insufficiente, quindi bisognava pensare a un'altra opera. Ora... C'è l'usura di tubature... Ecco, la questione... So che è molto discussa perché... La questione della sublaquale è una questione molto discussa perché è una questione dirimente, tant'è che il commissariamento, che è stato fatto con un decreto, decreto 92 che poi è stato abrogato, è stato un com, è stato assunto nel decreto numero 80, qui c'è tutta una vicenda, diciamo, di diritto parlamentare molto, molto discutibile, però essendo un decreto, ovviamente come tutti sanno, il decreto deve avere il presupposto dell'urgenza, necessità ma urgenza anche. E l'urgenza, se non leggiamo il decreto, era dovuta al fatto che la condotta sublaquale era giunta a fine della propria vita tecnica. Questa era l'urgenza. Da tanto tempo gira la voce, o viene fatta girare, insomma, di una possibile bomba ecologica, eccetera. E quindi cosa è successo? Che imminente rottura di tubature... Esatto, e quindi cosa è successo? Le tubature sono dai metalli anni 80. Acqua e Bresciane, che è il gestore unico e che è in capo al progetto, cosa ha fatto? Ha fatto fare, anche recentemente, delle verifiche, degli interventi. E c'è una relazione datata al 16 giugno del 2021, che dice che dopo un intervento e poi un successivo intervento, l'ultimo a marzo di questo anno, la condotta sublaquale non solo può tranquillamente reggere per i 40 anni, e quindi saremmo quasi vicini, ma anche per altri 10 anni, cioè quindi sostanzialmente fino al 2035, con alcuni interventi di manutenzione. La stessa relazione dice molto chiaramente che nell'ultimo anno, da quando è stato fatto l'intervento di manutenzione al marzo-aprile del 2021, non si sono registrati deterioramenti. Quindi in un anno non è cambiato nulla. Per cui anche questa urgenza della bomba... Dicevo che viene un po' utilizzata, un po' strumentalizzata. C'è una relazione, non è che lo diciamo a noi, c'è una relazione di Acqua e Bresciane, una perizia che è fatta fare da, ovviamente, dagli esperti del settore. Certo. Quindi anche questa cosa... Quindi partendo da questo, da questa bomba ecologica, cosa è successo? Che, adesso evito tutta la cronistoria di tutte le soluzioni prospettate, da Visano, poi l'ho nato, Sostanzialmente che cosa succede? Che i territori discutono, i comuni discutono, si confrontano e perché viene in campo l'ipotesi di due maxidepuratori, uno a Gavardo e uno a Montichiari, che farebbero confluire i reflui appunto nel fiume Chiese. Ora, come dire, tutti i comuni dell'Aster Chiese sono contrari a questa soluzione. Ma a contrari non perché Terra Loro e quindi il famoso NIMBI, insomma, che si dice non nel mio vicinato, nel mio territorio romano, va bene in quello dei vicini. No, non è questo. È perché effettivamente il fiume Chiese, che è un fiume comunque di 160 chilometri, non è? È un fiume torrentizio, è un fiume che negli anni sta soffrendo perché ci sono molte derivazioni per l'irrigazione di culture intensive di grano turco, ricordo, diciamo che in molti momenti, in molti mesi dell'anno è in secca, perché è torrentizio. Ricordo la famosa legionella del 2018, dove l'ATS aveva proprio certificato che tutto era dovuto anche allo stato del fiume Chiese. E quindi i comuni si sono un po' ribellati, diciamo, a questa soluzione. I comuni hanno detto, noi abbiamo già un problema con il Chiese, quindi... Ma non solo, ma che siamo Monti Chiale, le discariche... Esatto, non è il caso di andare ad aggiungere un altro che non è del nostro territorio. Ecco, questo è il punto, perché finora il depuratore di Peschiera scarica nel fiume Mincio l'acqua depurata attraverso presa dalla sublaquale. Quindi, adesso, in questo caso, la soluzione qual è stata? Quella di Gavardo Monti Chiale. Di far depurare le acque dei comuni gardesani, non nel bacino indrografico di competenza, cioè Sarca, Garda, Mincio, ma in un altro bacino indrografico, che è quello del Chiese, Lago d'Idro e poi il Chiese. E rispetto a questa soluzione c'è stato un dibattito anche molto acceso. Fino a che punto? Fino al punto in cui, ovviamente, la provincia è stata interessata, perché è l'ente di governo dell'ambito, la provincia di Brescia, che quindi si occupa del ciclo idrico integrato. E la provincia di Brescia, proprio il 30 novembre del 2020, a larghissima maggioranza, ha approvato la famosa mozione Sarnico, che ormai è diventata famosa come mozione Sarnico. Esatto. Che però è una mozione anche di buonsenso. È una mozione di assoluto buonsenso, perché cosa dice sostanzialmente la mozione Sarnico? Fissa un principio che dice che la costruzione, la localizzazione dei depuratori consortili deve essere fatta nell'ambito dei territori, dei comuni che afferiscono a questi depuratori. Quindi, nell'ambito del territorio del Garda. Però succede il fatto che nessun comune è disponibile a prenderselo il depuratore. Però, quindi, vogliono che la depurazione avvenga in un altro bacino geografico, i comuni di Gavardo Monticari, che fino a prova contraria col Garda non c'entrano nulla. Da qui è arrivato il commissariamento. Ecco, per cui, attenzione, dopo questa mozione, la provincia di Biesecolo d'Affa ha dato che è l'ambito territoriale ottimale e a Daco e Bresciane, viene data l'indicazione di rivedere la progettazione in linea con questo principio. Bene, le cose si stanno svolgendo quando arriva il commissariamento. Quando, su richiesta, perché poi i documenti ci sono, su richiesta di alcuni soggetti, tra cui la comunità del Garda, la cui presidente è l'onorevole Gelmini, che è, peraltro, il ministro per rapporti con le regioni di questo governo, chiede al governo, cioè chiede al ministro Cingolani, di proporre al governo il commissariamento, proprio per l'urgenza, di cui dicevo prima, sulla quale, eccetera. Il governo cosa fa? Commissario, nomina il prefetto di Brescia commissario. Tra l'altro, ecco, qui c'è tutta una vicenda che abbiamo, io peraltro personalmente ho esposto in audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Voi siete andati, infatti noi abbiamo anche trasmesso, abbiamo trasmesso i lavori, sono stati molto lunghi, comunque dettagliati, è stato un lavoro molto accurato, insomma, quello che è stato fatto in Commissione Ambiente della Camera. Abbiamo avuto modo di avere le registrazioni, quindi diciamo che c'è stata un'esposizione, insomma, dettagliata di quello che è la situazione. Dopo questo, comunque, al momento il commissariamento rimane? Eh, sì, il commissariamento rimane. Per la verità, qualche giorno fa, in Consiglio regionale, come mai è noto, c'è stata una mozione di partisan che ha sostanzialmente recepito gran parte delle richieste che facciamo. E comunque questa è di fatto, se non possiamo chiamare una svolta, è una riapertura. Diciamo che è un momento importante, perché questa mozione dà mandato alla Giunta regionale di chiedere al governo di riconsiderare tutte e anche altre soluzioni tecniche che possono essere esperite e anche di riprendere un confronto con i territori. Ecco, quindi, cioè, teoricamente questo è comunque un, cioè, dicevo prima, non è una svolta a quasi, perché comunque riapre un po' il gioco. Diciamo che è un passo importante, è un passo importante che noi abbiamo molto apprezzato e che ci, anzi, ci spinge a continuare con maggiore... Ecco, se vogliamo rimanere sul discorso politico, chiaramente siamo in Regione, la Giunta regionale è comunque una Giunta di centrodestra, è una Giunta vicina politicamente alla Ministra Gelmini, di conseguenza, diciamo che forse è ancora più valenza questa iniziativa. Certo, certo, perché... Non arriva dall'altra parte politica. Perché in realtà vi erano due mozioni, diciamo, una mozione del PD e Monito 5 Stelle e l'EU, che era molto più, diciamo, radicale da questo punto di vista. C'è stato un compromesso, un compromesso che è stato accettato, ovviamente ci sono tutta una serie di riserve che si potrebbero avanzare su questo, per esempio non viene richiesto il ritiro del commissariamento. Ecco, certo. Però, perché si capisce che era difficile, però va bene, insomma, l'importante è che ci siano degli elementi... Delle riaperture. Delle riaperture. La fermo un attimo perché abbiamo un minuto di pubblicità e poi torniamo a proposito di riaperture, perché invece rimane aperto il presidio e poi spieghiamo come. Un minuto di pubblicità e torniamo. Rieccoci da sette e mezzo, stiamo parlando del depuratore del Garda, della sua ubicazione, dell'attività del presidio 9 agosto per la difesa delle fiume chiese con Sergio Brora, che è nostro ospite, dicevamo prima della pubblicità, che insomma si riapre comunque con la mozione in consiglio regionale che impegna la giunta di Regione Lombardia a farsi carico di impegnare a sua volta il governo a riconsiderare quella che è il commissariamento con la relativa decisione, perché poi c'è da dire che il commissario è arrivato a una decisione che confermava invece che confermava il fatto che si facesse il depuratore e dovrebbe essere fatto a Gavardo Montichiari. Certo, in realtà la decisione su Gavardo Montichiari da parte del commissario è giunta ancora prima che il decreto venisse convertito in legge, perché poi è stato assunto da un decreto precedente e quindi diciamo che per noi era abbastanza chiaro. Stavo dicendo che era già scritto? Era abbastanza chiaro che c'era già scritto. Il commissario, il prefetto commissario ci ha voluto consultare un po' vari comitati ma è stata una consultazione molto così, era una comunicazione più che una consultazione dove già ci aveva comunicato che quella era la scelta. Peraltro proprio questa mattina c'è stata la risposta del governo all'interpellanza fatta alla Camera dei Deputati dal deputato Dori di Leo ma assieme ad altri, primo film a terra di queste interpellanze assieme ad altri deputati e l'abbiamo seguita, lui in modo molto determinato, molto preciso, molto caloroso anche ha sottolineato la valenza democratica del presidio. Addirittura c'è un passaggio nel quale lui vuole leggere uno a uno tutti i comitati che sono interessati al presidio e che fanno parte delle organizzazioni che hanno promosso questo presidio. Ecco, sul presidio diciamo che voi vi siete mossi in modo molto intelligente anche perché siete il classico modo di muovervi per essere inattaccabili sostanzialmente anche l'abbiamo visto in queste ore, cioè la questura alla quale ovviamente è stata interpellata da chi avrebbe voluto che voi toglieste le tende davanti a Palazzo Broletto è stata chiara il presidio non genera problemi di ordine pubblico e di conseguenza questo già non consente ovviamente alla questura un intervento, al questore un intervento nei vostri confronti e questo vi pone in una posizione molto forte diciamo. Diciamo che il presidio in questi mesi è cresciuto molto. Vi contestano di fatto che, insomma, mi passi il termine, quell'accozzaglio di manifesti sono brutti da vedersi e non sono in linea col decoro, è così? Sì, ecco, da questo punto di vista noi abbiamo anche deciso di dare un ordine anche perché... Ecco, fate degli striscioni più belli? Sì, no, di ordine magari anche con messaggi un po' più chiari perché il presidio è nato così, cioè... È stato spontaneo. È stato spontaneo, ma deve pensare che ci sono attorno al presidio veramente ci girano centinaia di volontari che vanno dal sorgente fino alla foce del chiese, quindi vengono dal Trentino, dal Mantovano, ovviamente da tutto il territorio del chiese e non solo, e non solo, personalmente sono dalla Valtrompia, quindi... Quindi sono abbastanza distante, insomma. Quindi, voglio dire, veramente da molti territori e con turni di tre ore, anche di notte, per cui... E non abbiamo mai dato nessun promedio all'ordine pubblico, questo nelle prescrizioni quest'ora l'ha sempre riconosciuto, l'ha sempre riconosciuto e devo dire che con noi la questura si è dimostrata, diciamo, secondo me all'altezza del ruolo che deve avere la questura anche in questa situazione. Certo, è un unicum nel recente... Sì, anche perché adesso quanti sono? 74 ormai i giorni. 74 giorni. 74 giorni che siete lì dalla mattina alla sera... Ah, e di notte. Di notte, non si è mai visto. Chi viene, vede comunque questi striscioni, perlomeno la domanda se la pone, chi passa di lì. In 74 giorni abbiamo abbracciato il periodo estivo e stiamo entrando nell'autunno, quindi l'inverno, quindi è chiaro che avete riempito tutto un periodo in cui dalla mattina le passeggiate di sera e del weekend in città, insomma, vi siete fatti vedere. Sì, sì, ma non solo, ma il presidio è diventato un momento imprescindibile della politica bresciana, questo ci è stato riconosciuto. Nel senso che... Avete creato un precedente importante? Certo, perché nel presidio si svolgono tutta una serie di, diciamo, attività che sono inerenti al presidio stesso, non sono cose di esterno. Dai momenti di solidarietà fino alle discussioni, dibattiti a chi presenta, non so, l'agricoltura biologica nel sud lungo il fiume, addirittura c'è stato un trattore che è entrato in piazza e ci ha portato la solidarietà degli agricoltori del chiese con dei prodotti che ci sono stati donati. Sono passati alcuni deputati, sono passati i deputati, è venuto Mercalli. C'è stato Luca Mercalli che ci ha portato la solidarietà, ha detto anche, ha fatto un breve discorsetto, insomma, è passato un euro parlamentare, è passato il vescovo di Brescia. È passato il vescovo, è vero, è vero. Non solo, ma una nostra delegazione, io personalmente sono andato anche in Curia, invitato per raccontare un po' e discutere, diciamo così, anche con la Curia, tutta la vicenda. Insomma, siamo stati auditi in commissione, i giornali anche nazionali ne hanno parlato, abbiamo fatto una manifestazione l'11 settembre in cui più o meno c'erano 1200 persone, qualcuno anche ha detto molte di più, ma accontentiamoci, 1200 persone, con più di 10 sindaci dell'asta del chiese. Quindi ha assunto un ruolo effettivamente rilevante da questo punto di vista. Come dicevo prima, avete creato un precedente, ma soprattutto un precedente per lo stile proprio della protesta. Conosciamo le proteste, le proteste di solito sono un po' meno tranquille di così, e questo invece vi ha consentito di partire a durare 74 giorni senza essere sgomberati? No, assolutamente. E ancora oggi? Assolutamente pacifico? Penso che non ci sia il discorso di sgombero? No, questo non c'è mai stato per la verità prospettato. Con il Comune di Brescia c'è stata un'interlocuzione, adesso aspettiamo una risposta, proprio per la possibilità di mettere un riparo e di, ma questo non abbiamo nessun problema, di sistemare magari anche un po' meglio, diciamo così, proprio l'assetto del presidio stesso, che si è dimostrato proprio in tutti questi giorni proprio un presidio di democrazia. Perché ricordiamo, e questo tengo a sottolinearlo, che noi stiamo a difendere non solo un territorio, che è già questo, ma anche le istituzioni di questo territorio, i comuni, ma anche la provincia di Brescia. Ma anche un principio. Alla fine, la famosa mozione sarnico è un principio, costituisce un precedente, ed è un principio per tutta una serie di altre situazioni ambientali in primis, ma non solo. Certo, questo, ma in realtà l'attività del presidio va anche al di là dell'aspetto localistico, perché pur se l'ambito territoriale è molto ampio, però va al di là perché vuol difendere un principio democratico. Qui bisogna chiarirlo bene, cioè la nomine dei commissari, il commissario si chiama commissario straordinario, in realtà questa straordinarietà è diventata ordinarietà. Nessuno di noi ha avuto nulla da dire sulla nomine del commissario per il ponte di Genova, ovviamente che lo sappiamo lì, l'opera era da rifare, bisogna fare il prima possibile, semplificare, eccetera. Qui non è stata commissariata un'opera, qui è stata commissariata una funzione, una competenza che è in capo alla provincia di Brescia, cioè il collettamento e la depurazione della sponda Brescia nel lago di Garda, che spetta per legge, sia nazionale che regionale, alla provincia di Brescia. E' stata commissariata, tant'è che è commissariata oltretutto da una figura che è il prefetto, e quindi anche questo è molto delicato, la confusione tra commissario e prefetto. Il prefetto nella sua concezione democratica dovrebbe essere il rappresentante del governo sul territorio. Ma dovrebbe essere, e questo è stato richiamato anche dal Presidente della Repubblica più di una volta, il, come dire, fungere da raccordo tra i territori e il governo, rappresentare le esigenze dei territori al governo e viceversa, ovviamente. E invece in questo caso il commissario prefetto non ha tenuto in alcun conto le esigenze dei territori. L'emozione sarnico è stata completamente stracciata. Certo, certo. Senta, voi avete, andrete avanti, verremo a trovarvi quando avete risistemato un po' lì la questione, avete abbellito un po' la vostra casetta. Speriamo di non abbellire con gli alberi di Natale. Ecco, va bene. Però adesso arriverà un gazebo, una casetta, non so, abbellirete e ci auguriamo. Adesso la scherza, e a parte concediamoci anche un attimo la battuta per alleggerire, che appunto magari anche l'iniziativa del Consiglio regionale Lombardo possa in qualche modo riaprire e consentire una discussione un pochettino più ampia e più approfondita. Ecco, noi le prossime, diciamo, le nostre decisioni saranno quelle proprio recenti, quelle di, noi vorremmo incontrare il Ministro Cingolani o quantomeno la sottosegretaria, insomma, all'ambiente del Ministro di Attenzione Ecologica, mi sembra che l'incontro. Che al momento non è stato possibile. No, al momento non è stato possibile. Noi abbiamo richiesto, non solo, ma vorremmo incontrare anche la Ministra Lamorgese, Ministra dell'Interno, per rappresentare, insomma, questa situazione e anche qui questa commistione tra la figura di Commissario e il Prefetto è molto, molto, ma molto delicata per gli equilibri democratici. Certo, indubbiamente. Grazie Aurora. Grazie a voi per la ospitalità. Ci rivediamo sicuramente. Grazie a voi per averci seguito. Speriamo di aver un attimo chiarito perché poi, come dicevo, queste sono situazioni lunghe nel tempo. Si sentono sempre gli sviluppi, ma forse manca un po' a volte il background per comprendere bene la questione e la notizia. E speriamo di aver approfondito come è nostra intenzione fare tutte le sere. Ci vediamo lunedì alle 19.30, 7.30. Buona serata a tutti e buon weekend.